Calma, calma, apparente o almeno questa è la sensazione che si ha venendo qui a Torre del Grifo. Noi ci troviamo all'esterno del centro sportivo dove tra poco comincerà il primo allenamento settimanale dei Rosso Azzurri dopo la pesante sconfitta rimediata a Livorno sabato scorso. Calma apparente perché dalle ultime indiscrezioni di stampa sembra essere in bilico la posizione del tecnico causa il magrissimo bottino racimolato in trasferta dal Catania e soprattutto dalla mancanza di gioco, almeno questo i critici dicono. La posizione del tecnico Sannino che però dal canto suo vanta la difesa della piazza, cioè tutti i tifosi del Catania sostengono l'operato di Sannino, sostengono che probabilmente non è il momento giusto per cambiare ma un'intervista pubblicata oggi dal nostro quotidiano invece svela una posizione totalmente opposta del presidente Pulvirenti che difende il preparatore atletico nonostante i tantissimi infortuni rimediati dalla squadra e mette qualche dubbio, qualche ombra proprio sul gioco espresso dal Catania in queste settimane. Allora noi sentiamo punto per punto tutti i dettagli in questo servizio realizzato da Umberto Teghini. La prima domanda che si pongono i tifosi del Catania è la seguente. Cosa paga Sannino in questa situazione disastrosa tra infortuni soprattutto di origine muscolare, continue squalifiche, lacune tecniche e un organico certamente sopravvalutato in sede di mercato? Secondo la società Sannino è il principale responsabile della situazione, ne sono convinti meno i tifosi che difendono a spada tratta il 57enne allenatore di Ottaviano. Sannino dunque paga innanzitutto il rendimento esterno, due soli punti in sette partite della sua gestione. Sannino paga anche alcune valutazioni tecniche relativamente ai giovani, non adeguatamente utilizzati come avrebbe voluto la società su tutti i casi di Auger e Parisi. Sannino ha mostrato anche limiti tattici emersi durante le partite. I cambi, ma i tempestivi, spesso sono stati suggeriti da infortuni più che da precise strategie. Ma il tecnico napoletano paga, secondo indiscrezioni, anche il duro faccia a faccia con Giampiero Ventrone, preparatore atletico suggerito ai tempi da Alessandro Moggi, che ai piedi dell'Etna non riesce a riscuotere consensi. Anzi, i 26 infortuni di origine muscolare confermano che qualcosa sotto l'aspetto della preparazione andrebbe immediatamente rivisto. In giornata potrebbero esserci delle novità. I nomi più ricorrenti, al di là del suggestivo ma impossibile ritorno di Walter Zenga, è scartata l'ipotesi Fabio Grosso che allena già la Juventus primavera. Cresce invece l'ipotesi Fabio Liverani, alle spalle l'esperienza poco esaltante con Genoa e attualmente a Leighton Orient nella Serie C inglese, Liverani e peraltro nell'area Gea. Scarse le possibilità che portano a Vincenzo Torrente, già al Bari, e ad Alessandro Calori l'anno scorso a Novara. Nomi in circolazione così come quello di Dario Marcolin, vice di Mialovic, proprio a Catania. Il cambio dunque avverrà. Pulvirenti e Cosentino difficilmente faranno un passo indietro. Una cosa è certa, chiunque verrà dovrà andare d'amore e d'accordo con Giampiero Ventrone. Aspetti, come dicevo, il servizio legati anche all'ingaggio del tecnico. Il Catani intanto è al lavoro, dicevamo prima alle 15 comincerà l'allenamento. Abbiamo visto i giocatori arrivare con le loro auto private qui all'ingresso dei calciatori, qui a Torre del Grifo, facce tirate, nessuno ha voluto parlare, chiusi nelle loro macchine. C'è da preparare l'impegno di sabato prossimo con il Brescia al Massimino e questa sarà una settimana infuocata sicuramente per i rossazzurri. A voi la linea.